Già oggi noi abbiamo raggiunto l'obiettivo che ce l'avevamo prefissati, cioè 4.000 punti Wi-Fi in tutto il territorio regionale che peraltro hanno avuto circa un milione di accessi negli ultimi quattro mesi e questa sperimentazione porterà lo stadio Dall'Ara ad avere già dalla prima partita di campionato il Wi-Fi libero, veloce e gratuito di Emilia Romagna Wi-Fi. Il comune di Vidiciatico, di Zani in Belvedere, nella piscina di Vidiciatico, lo stesso servizio è anche già in funzione in questi giorni della Notte Rosa nel comune di Cesenatico. È un'iniziativa della regione Emilia Romagna che abbiamo colto con grande interesse perché va nella direzione della modernità, nella modernizzazione dell'impianto. Tutto va per migliorare l'esperienza che il tifoso vive venendo allo stadio e fornire i servizi oltre tutta l'interattività legata alle statistiche in tempo reale eccetera. È un segnale di un'attenzione verso una montagna che ha bisogno di essere infrastrutturata, di essere collegata. Noi vogliamo vivere in montagna, vogliamo che la montagna cresca e quindi per noi sono tutti momenti molto importanti. Un impianto di questo genere in Piazza Costa che è il cuore turistico di Cesenatico con il grattacielo, con i campi da beach volley, l'arena beach, la spiaggia libera è un servizio non solo per i cittadini ma per i tanti turisti che la frequentano quindi è un cambio anche dal punto di vista della qualità dell'offerta che si riesce a dare, che si riesce a fornire.